A 180 minuti dal termine del campionato di Serie D una buona notizia per il calcio sassarese. Il latte dolce ha raggiunto la salvezza matematica e guarda con fiducia al prossimo futuro. Il presidente Fresu vorrebbe vivere con meno patemi d'animo. La forza del gruppo è venuta a crescere gara dopo gara e l'handicap del noviziato è stato superato da sacrificio e coesione tra i reparti. Il settore giovanile ha dato grandi risultati e l'entusiasmo ha trascinato tutti, società e addetti allevori. Domenica alle 15 il Vanissan sarà di scena al Rieti, battuto in misura all'andata. Si aspetta il grande pubblico che dovrà tributare il giusto saluto di ringraziamento a una squadra che ha regalato soddisfazioni, pur non disponendo di budget esagerati. Un plauso a mister Massimiliano Pava che è riuscito a motivare sempre e comunque i suoi atleti e la società per il supporto preciso e puntuale.